Ciao, bentornati sul mio canale! Praticamente non registra un video da un mese, secondo me sì, da un mese ma come sapete sono stata in vacanza perché poi sono andata in ferie quindi ho fatto un po' di mare intanto in questo mese l'unica cosa che è davvero cambiata, perché poi il resto delle cose è sempre uguale sono i miei capelli, come vedete i miei capelli sono ritornati nel loro colore originale per la prima volta vi giuro sono davvero contenta del mio colore di capelli, anzi forse l'avrei fatto un pochettino più scuro voglio tornare con un nuovo video e voglio tornare proprio con un video haul ho notato che i video haul sono video che piacciono e anche quando giro video su questo canale, haul, vedo che piacciono molto quindi voglio ritornare con questi video, qualche cosuccia che ho preso da Maison Duton ho trovato in offerta questa borraccia, non so come definirla, sì, per prendere per bere il cappuccino ho preso questa qua che è forse di un'edizione limitata, che poi tra l'altro si chiama Lovely cioè come il mio canale ASMR ed è molto carina perché ci sono queste stelline, la scritta nera e le stelle dorate quindi veramente mi piace tanto 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 e la tenivo qui perché devo farvela vedere e non vedevo l'ora queste io le uso tantissimo cos'è? con il cocktail? vabbè questa è un po' estiva secondo me infatti ci sono i lime, queste cose così però trovo che sia un po' troppo estiva questa qui l'ho pagata una cosa come 90 centesimi, non seppure di mica e questa borraccia anziché pagarla 5 euro l'ho pagata 2 euro poi ho preso queste due che mi piacciono da morire una è fatta così, che ho scritto Kitchen con queste righe beige e invece questa qui che ho scritto Home con le righe nere trovo che siano davvero troppo troppo quelle dunque io ho delle occhiaia ma è vista bella, tutta rotta allora da Pull&Beal praticamente ho preso questa gunna allora io non avevo una gunna di jeans perché ho fatto una cernita nei miei abiti e quindi non avevo una gunna cioè mi credete non c'è una minigonna di jeans ho comprato questa qui da Pull&Beal e mi piace tantissimo l'ho usata una cosa come 3 volte, 3-4 volte da quando ce l'ho ma è bellissima, è super super aderente è a vita alta ed è una taglia S e qui ha questi stracci trovo che sia veramente bellissima magari ve la faccio vedere indossata questa qui l'ho pagata 18 euro ho preso questa qui, vabbè adesso è un po' tutta stropicciata però vi garantisco che è troppo bellina è fatta così ed è anche questa a vita alta e questo colore tipo seina non so come dire terra cotta mi piace davvero tanto 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 poi la particolarità che ha questi bottoni sul davanti è davvero bella poi un'altra cosa che ho preso da Pull&Beal e mi piace tantissimo ah comunque questa l'ho pagata 10 euro un'altra cosa che ho preso da Pull&Beal è adoro cioè proprio mi piace troppo questa camicetta è una semplice camicetta però con questo stile un po' largo che sembra tipo sapete quelle camice pigiama non so se avete capito se avete presente comunque anche questa ve la faccio vedere indossata ha le maniche larghe non molto lunghe e poi c'è tutta questa decorazione supera tipo limoni, foglie non si capisce comunque trovo stupenda veramente è larghina mi piace da morire poi a me piacciono molto le cose queste non troppo aderenti ma neanche tanto larghe non so come dire uno stile tipo scappata di casa ma fashion costa 16 euro costa un po' tanto secondo me non era con i saldi però vabbè la Bershka varie maglie che sono troppo belline queste maglie io queste qui le uso tantissimo soprattutto da sopra i jeans trovo che siano bellissime adoro molto diciamo questi stili questo stile semplice perché questo stile diciamo non passa mai cioè ci sono tutti gli stili che ne so particolari che quest'anno ci sono magari l'anno prossimo invece questo stile che io alla fine opto sempre per questo cioè cose molto molto semplici non passano mai di moda quindi anche se mi compro certe cose non passano mai ho preso questa maglia qui grigia con questi bordini color vinaccia con la scritta slogan sopra trovo che sia veramente veramente bella costa solo 6 euro quindi pochissimo non è molto aderente io ho preso la XS quindi anche se XS non è super aderente non dà fastidio quindi veramente ve la consiglio adesso vi farò vedere magari ho voluto prendere un'altra maglia uguale però questa volta verde mi piace molto questo colore verde scuro verde bottiglia non so come definirlo anche questa 6 euro e poi la mia preferita cioè adoro questa maglia è questa qui mi ricorda tantissimo una maglia che avevo quando ero piccola infatti appena l'ho visto ho detto no spostatevi tutti davanti al cavolo l'ho voluta prendere perché è una maglia che è uguale uguale identica ad una maglia che avevo io quando ero piccola quindi mi piace da morire poi c'è una manica verde una manica gialla una striscia blu una striscia rosso poi ho preso un jeans ho preso un jeans di praticamente la linea è la skinny low rise questa qui la taglia è una 34 sarebbe una 38 si è una 38 italiana e è a vita alta non proprio però non è né vita troppo alta né vita troppo bassa e e scende molto molto carino io lo volevo anche nero allora poi sono andata da un negozio che c'è qui da me dove abito io quindi non so dirvi dove potete trovare queste cose però ve le volevo far vedere perché sono troppo belle il primo paio di scarpe è questo qui che si portava tantissimo l'anno scorso e sarebbe questa specie di tacco calza e io queste scarpe le ho pagate 20 euro l'una quindi pochissimo sono certe 18 certe 20 giù di lì ma non di più comunque questo è quello stifane calza che si portava tantissimo anche l'anno scorso ma che si porta tuttora anche quest'anno voi ve lo potete mettere con un vestitino con una gonna stretta aderente con un jeans skinny cioè questi stanno bene con tutto e siccome l'anno scorso ho detto cazzarola li voglio e poi tutti quanti che si comprarono questi stivali quest'anno le ho trovate e le ho comprate poi io adoro le scarpe cioè se c'è una cosa che adoro sono proprio le scarpe ok adesso non so rimetterle più nel pacco tre molto 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 belle sono queste qui che sono dei classici biker boots infatti come potete vedere sono molto molto sportivi le ho provate anche da sotto alla gonna alla minicunna e stanno benissimo ma comunque io adoro i biker boots poi trovo che non passano mai di moda cioè li amo questi sono un po' corti infatti non sono uno di uno di quei a me a volte queste questo tipo di scarpe mi piace ancora con una sola ancora più grande ancora più più rock non so come dire però questi mi piacciono molto perché sono semplici hanno un tacco bello alto e hanno anche una fibbia molto 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 rock non so come dire molto decisa quindi sì mi piacciono poi sulla sulla caviglia non stanno aderenti ma stanno larghetti queste cioè io adoro queste scarpe viste così fanno schifo ma in realtà sono troppo belline sono praticamente dei stivaletti che io questi stivali li ho visti sia su amazon e non su amazon li ho visti sia su instagram sia su come si chiama quel sito asos li ho visti da un sacco di parti comunque sono questi classici stivaletti io li amo e li adoro perché sono super comodi se siete basse come me vi fanno belle altine e io amo queste scarpe indossate sono davvero carine quindi queste toppe non vi do l'ora di utilizzarle solo che stiamo a ricavere quindi ancora no niente ragazzi io ho finito con il video haul magari vi faccio vedere un prossimo video haul con tante nuove cose perché sicuramente arriverà arriveranno cose nuove per altro shopping sia a livello di abbigliamento che a livello di make up quindi preparatevi io vi mando un bacio grande e ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao